A mora molto positive, un'altra, va. Ehi, ma staccio a vedere con le cose positive, va. Ne volete, sono solo, va, pustite il corona con fuolo, la luce, pustite, vogliate priccio. Ehi, ma staccio a vedere. 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 è un problema grande, perché è solo mettere un servo, mettere in un reservo, mettere l'Ama, e poi si tratta da lì 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 si tratta, c'è, io sono tutti i ho i stai cattanti, oggi stavano in un pochopo, ma gli stavano in un pochopi, ma anche tutti i stavano in un pochopo, le persone stavano in un pochopo, ma gli stavano in un pochopo, siamo in un pochopo, è anche tutti i resti del parking, è meglio di parkare in un belzinski, e io ho parlato, ho parlato, si è più di un'industria. Ho sono tutti osviettili, non ho trovato il sistema in camion. Prima lo sono corpito, non lo so, 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 non lo so. Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. quando si è presuncato, quindi utilizziamo l'equipo, invece non lo so, non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. ancora qual è il postupo quando si è un postupo quando si è un postupo se si è un postupo se si è un postupo e vi faccio non mi piace se è luto da te ne che si è un postupo quando ogni roba che è natovarato ha un suo CMR e questo CMR è un postupo è un postupo ogni roba che è natovarata è assicurata quindi io credo che non avete problemi che ci sono solo quando si è un postupo un postupo non lo so 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 se si è un postupo quando è stato arrivato non lo so 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 se non lo so che ci sono voi? vi eserci e fattate uno arriva un altro si poteva un uglavo i... i sono arrivati i restate qui è morto non lo so non lo so per questo io penso che non è non è vero mediò che mi interiore perché mi sono venuto perché non mi si obama persona che si obama quando mi avva che è venuto, non mi rimane per la mia famiglia, non mi si obama ciò che non è un grande, ma non è il fatto che gli aiuti, non è un'escalza, non è l'escalante. Non è un'escalante che non è il fatto che si fa, non è un'escalante. Non sono chiuse, un'escalante, 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 il mio più giudice è il più grande di me. Sve ovo iza meni che se vozi e si è osicurato. Ima CMR, il mio brollo è taj e taj firma. Priloži CMR. Evo, to è taj CMR. Evo, to è taj CMR. Osicurazione, to e to. E? E osicurazione. Roba è o vredo 5.000 euro. Osicurazione, dico, 5.000 euro. E... Ma, ovunque, si è dovuto accadere, da je ukradeno, mora sve ići postupak. Kad vam neko nešto ukrade, znate, morate zoviti policiju, policija dođe, uđe, se napravi, idete dajeti izjavu, bla 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 bla. Gdje ste bili, šta ste radili. Sve u detalje. Znate kako ide, šta ide i to. Da vam ne pričam o tim stvarima. Ali, to bi bilo to. Mada, se desio jedan slučaj. Kolegi. Nijet ću ga imenovati. Davno je bilo. Imao je čovjek običaj slagati svoje stvari. Kad negdje je spavat, voziu je kamion sa i pol tona. Mali. Imao je običaj slagati sve svoje stvari na sjedištovo zače. I naravno, on je ležao, bio je zatanjen. Bargiruo se negdje. On kaže da je bio na Braničkoj punti. Pored lampije, pored rasvete. Čovjek je došao. Koliko je nije bilo, ne znam. Odlučao su mu kamion. Tu su uzijeli sve stvari sa sjedišta. Što su bile. Jaknja, majica, bantole. Uzijeli su. Otišli su tu do kamiona, do zadnjej točka, do zadnjej osobinini. Otišli su tu. To je neki možda četiri metra razlag. Koliko je to? Može biti tri četiri metra ljudi moji. Otišli su tu. Prorovili džepove. Našli novčani. Pobacali mu stvari i otišli. Od svih dokumentata ljudi. Mojih ostavljaju samo Pasoš je. Pasoš mu nije bio tu. Nego je bio... ...mama, negdje drugoj. Što je bilo negdje. Samo mu je Pasoš ostavljen. Nisa običan, naravno. Znači, sve je vozačka lična kartica. Nako, na pare od zadruženja. Pare njegove. Sve su odnijeli. I to mu je gazdan odbio. Odbio mu je 170 eura mese. Čini da je on imao. Nego je ostalo od zadruženja. Ili je 270. Sad ću vam slagati. Znači, morao je vratiti gazdi dve pare. To je jedini slučaj koji ja znam. Da je onaj... Da je odbijeno. Mada... Mada i to je... I to mu ja ne bi... Lično ja ne bi pristalo da vratim pare. Nek bi otišao iz firme i našao drugo firme. Spatim moje što imam da vratiš. I do ođenja. I prijatno. Jer nijema tuži. Ljudi moji ukradu vam ljudi. Sva šta se dešavalo po toj Evropi prije. Ljudi su vas ostavljivali. Kurnovamo na izolaciju. Tako su malo pričali. Ljudi su... Ostajali bez bubrega po Rusi. Tako pričaju. Ja vam pričam šta se priča. Znači... Ljudi moji... Ako su oni mene legali i ja lažim vas sad. Što stiče tog bubrega i što stiče ti uspavljali. Ja mislim da je istina što stiče da se uspavaju. Ja sam bio u koloniji u Turskoj. U koloniji u Turskoj. Gdje su čovjeka onaj... Gdje su čovjeka napali. Ostalo mu prozor malo otvoren. Ovako je bilo vruće. Ostalo je čovjek prozor. Leko spava. Gužba bila. Nekakav guruo se. I Turci su došli. Kurdi šta su ne znam. Ne ja. Otvorili mu kamioni. Laptop je bio tu. I pošao ovaj da krade laptop. Ovaj vidio. Da ovaj krade laptop. I ovaj skočio. Ali ovaj drugi s ove druge strane. Uzeo nož ljudi moji. I zbog čovjeka tri puta u nogu dole. On se branio nogama. Jadan više nije. Mogu upustio i kompjuter. I sve. Sada branio se. Branio se život svoj. I tako da je dobio tri uboda. U nogu dole. Po petama. I u list. To vam se dešava ljudi moji. Sve. Zato morate dobro. Nemojte držat vrijede stvari na očima. Ako nosite laptop sa sobom. Laptop. Laptop ako nosiš sa sobom. Nemojte ga držat tu. Da se vidi. Moješ ga naravno držat. Kad ti praviš pauzu. Otvoriš. Gledaš. Tak vječer ikoništa. Ali on su misli da nije nikog kamionu. On su ušli. Međutim ovaj skočio. Ovaj kad je vidio. Eto bila. Ušao drugi s druge strane. Eto bila. Zato ljudi. Eto. Ne znam. To je to trilke. Što sam htio da kažem. Morate se čuvat. Opet apel. Čuvajte se. Pazite se. Razmišljajte glavom. I eto. Nemam više. Da ne dužim klip. Da ne bude opet. Paljezganja. Ovo. Da ovamo. To će bit to što stiče ovo videa. Video klipa. Ja odom. Polako. Prema Bosni dole. Pravim provoz od od kući ljudi. Moji dosta od mene. Evo sedam dana. U stvari ovo je osmi dan. Ovo je osmi dan. Ovo je osmi dan. Nisam bilo žvigavac iz vide kolega. I eto ljudi. Budite pozdravni pa se vidimo u sljedeći klip. Pozdrav! Technoclix. Vrši prodaju navigacija sa najnovim mapama. I i te opreme sve na jednom mjestu. Možete ih posjetiti u Sarajevu u ulici Stupska 20a. Nasjedje Stup Tibra Pacifik 2. ili putem websajta www.technoclix.com i na olixu Technoclix.